Salve a tutti e bentornati, in questo nuovo video ragazzi ritorniamo a parlare di GamesGo.pro una piattaforma che ti offre un ottimo servizio per risparmiare su Netflix, Disney, Amazon, YouTube Premium e soprattutto anche Spotify per ascoltare musica. Nel video precedente ho realizzato un altro video su GamesGo e come puoi vedere qui su Netflix risparmi 3,87€ centesimi, lo compri, è un account condiviso quindi dovrai cliccare solamente il tuo account una volta accesso con il tuo account Google vai su abbonamento e lì troverai il tuo abbonamento che hai fatto su una di queste piattaforme. Andiamo sul sito, come puoi vedere Netflix 3,87€, se vuoi lo sconto c'è il codice in descrizione Premium 2,81€ di YouTube, Disney Plus è un affare 2,08€ invece di 9,99€ oppure 8,99€ HBO Max, Paramount Plus, Tidal per ascoltare musica, quest'altra piattaforma non la conosco però 4 persone condividono così un abbonamento. C'è anche il supporto indiretta 24 ore su 7 giorni, c'è la garanzia di rimborso e appena compri l'abbonamento in meno di un minuto ti arriva. Ora faccio un attimo l'accesso con il mio account Google. Ok, eccolo qua, abbonamento. Ed eccolo qua, questo è il mio abbonamento. Il tempo residuo 112 giorni. Il primo mese l'ho comprato, ho fatto il favore a loro di sponsorizzare il loro sito e mi hanno regalato 3 mesi di Netflix. Ok, io faccio parte di queste altre 4 persone che hanno comprato l'account, quindi io dovrò cliccare solamente il secondo profilo. Posso cliccare il profilo delle altre persone. Questo è l'account e questo è il codice. Questo è il codice, la password. Se in caso non dovesse funzionare il codice ti consiglio di fare... Qui c'è scritto pure, non valida. Fare, clic per ripristinare. Ora, non ci resta che andare su Netflix. Ok, Netflix. Ok. Queste sono le persone. Ok, queste. Questo è il mio account, quindi clicco il secondo profilo. Esco così da Netflix, faccio accedi. Questo è l'email, il numero o il telefono. Ti danno l'email e questa è la password. Vediamo se va questa. Faccio accedi. Ok, è andata. Ora mi ha dato il profilo dell'altra persona. Ok. C'è sempre questo tipo di errore che quando vai ad accedere ti porta sul primo account dell'altra persona. Quindi, se lo vuoi, in descrizione c'è il link, ti porterà sulla pagina GamesGo e poi potrai mettere lo sconto con il codice che ti ho lasciato a fianco al link. Ok. Cioè, più di questo risparmi sulle piattaforme streaming non hanno solamente Disney, Netflix, Spotify, ma hanno anche Office 365. Ora, visto che non c'è qua sopra, ok, adesso c'è, è arrivato l'ordine di Spotify, 3,33€ al mese. E se fai anche il rinnovo del prossimo mese, ti daranno il VIP. E potrai anche avere 2,49€ al mese di Office 365. Ok. Quindi, se ti è più comodo, c'è chi non si fida, c'è chi non ci crede, però, io l'ho comprato, ho fatto anche l'accesso, sto guardando Netflix. Forse prenderò anche Disney, perché tra poco mi scade l'abbonamento che ho comprato a 8,99€. Poi, quando mi hanno fatto scoprire questo sito, lo comprerò qua sopra, a 2€. Più lo sconto, chissà, 1,80€. Quindi, se vi è più comodo, io te lo consiglio questo servizio streaming. E grazie a tutti per questa visione, per il vostro tempo. Iscriviti al canale. Per maggiori informazioni, lascia like se il video ti è stato utilissimo. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao.